Oggi la pediatria di Mazzara tutta partecipa alla giornata di prevenzione della shaken baby syndrome. La shaken baby syndrome è una sindrome che è stata riconosciuta soltanto recentemente e viene provocata nel bambino molto piccolo da manovre che a volte possono essere in consulta ed vengono provocate nel bambino quando piange in maniera esagerata. Il pianto del bambino che è espressione di vari momenti e di varie necessità dello stesso non sempre ha bisogno di essere consolato. Può essere espressione di coliche, può essere espressione di disagio, può essere praticamente l'espressione della volontà di essere preso semplicemente dai genitori o di essere coccolato. Però il pianto a volte diventa così insistente e così diciamo infastidente per i genitori che essi stessi nel tentativo di farlo smettere sono artefici di banovre che possono provocare dei danni gravi. Basta semplicemente scuotere un bambino in maniera violenta e provocare praticamente un movimento della testa violento all'indietro e in avanti che nel bambino molto piccolo, specialmente nel bambino tra i primi mesi di vita fino praticamente ai sei, quando non c'è controllo del capo, la sindrome viene scatenata proprio dal movimento dell'encefalo nella scatola cranica e questo è diciamo il momento in cui si possono provocare gravi emorragie cerebrali, conseguenze che sono irreversibili e che possono addirittura portare a coma e a morte dello stesso. Per cui per noi diventa fondamentale che questo messaggio venga trasmesso a tutti perché la sindrome che è appunto appena descritto ha effetti irreversibili, effetti che possono veramente provocare negli stessi genitori delle situazioni così insostenibili, irreparabili che appunto non devono essere provocate. Per cui per noi diventa fondamentale esserci e testimoniare questo momento. Per favore non scuotete il bambino quando piange, semplicemente accarezzatelo o se non potete fare a meno nel controllare i vostri diciamo momenti di stress, allontanatevi e così lui non avrà danno. Buongiorno, come responsabile regionale, social regionale della Simeup sponsorizziamo questa giornata. La Simeup è partner ufficiale di Terre des Hommes che è un Ollus che si sta occupando proprio di prevenzione di incidenti che si verificano a livello domiciliare per cui questa giornata verrà celebrata a livello nazionale quindi noi vogliamo dare il nostro segno, l'ASP di Trapani c'è ma Zara c'è.